I pugliesi promuovono il mercato libero dell'energia. Il primo luglio scorso è stata sancita alla fine del mercato tutelato per gas ed elettricità e secondo uno studio condotto da Edison Energia e il Censys, i pugliesi hanno apprezzato le opportunità del mercato libero, soprattutto perché consente di scegliere fornitori, offerte e servizi aggiuntivi. Il mercato libero ha in sé un grande valore che è quello della possibilità di scelta e questo è un valore di per sé e valore vuol dire anche energia verde, vuol dire offerta di servizi che risolvono i problemi quotidiani di casa. Il mercato libero dell'energia rappresenta uno strumento importante per accelerare la transizione verso un sistema energetico più sostenibile. I pugliesi, secondo lo studio, sono disponibili a adottare soluzioni di autoproduzione come le comunità energetiche in cui i cittadini si riuniscono in gruppo per produrre, condividere e gestire energia rinnovabile a livello locale favorendo l'autosufficienza energetica e riducendo l'impatto ambientale. La transizione energetica o comunque le grandi trasformazioni devono partire dal basso, quindi è il consumatore che è attore della transizione, come operatore dobbiamo dare gli strumenti e supportare questa transizione. La pandemia e le guerre alle porte d'Europa e Medio Oriente hanno aumentato il costo della vita. Il mercato libero aiuta i cittadini a contenere i costi. Le famiglie pugliesi, come del resto le famiglie italiane in generale, in questi anni hanno dovuto far fronte a budget sotto pressione. Abbiamo avuto l'inflazione, le bollette sono esplose, quindi è chiaro che c'è un bisogno di contenimento dei costi che coincide poi anche con la voglia di inquinare meno, con la voglia di una più alta sostenibilità. Grazie.